Sono in collegamento con Maila Perlisi e Ratele Mancini di Iburama, giovani designer romane che disegnano e realizzano borse, la cui attività è in espansione non solo nel nostro paese ma anche all'estero e sono un fiore all'occhiello del Made in Italy. Grazie per averci dato l'opportunità di parlare perché in questo periodo per noi giovani designer è veramente difficile, credo un po' per tutto il settore della moda, ma i big sicuramente ne usciranno più forti di noi. Noi dovremmo saltare quasi tre stagioni perché il 60% della merce che dovevamo comunque consegnare è rimasta nel nostro atelier, è un guaio veramente grande. Quando ci sarà possibilità di riaprire avremo modo di andare su pronto, quindi di non fermarci sulle collezioni che sono appunto saltate ma di concentrarci su quello che comunque abbiamo. Un po' come diceva Giorgio Armani in questi giorni, adattarsi per rivoluzionare. Certo, sono parole sante quelle di Giorgio Armani. Questa corsa nella moda ha quasi fatto perdere il valore della creatività. Noi non abbiamo un laboratorio personale ma ci appoggiamo a quei piccoli laboratori che ancora fanno artigianato vero e hanno sempre sofferto negli anni, figuriamoci adesso. Ci teniamo tanto a supportare questi artigiani e a continuare a fare le cose come si facevano una volta, per noi è fondamentale. Abbiamo un magazzino pieno di borse che dobbiamo smaltire e non sappiamo come fare e gli ammortizzatori sociali sono pochi. No, purtroppo non ci sono degli ammortizzatori sociali ma questo anche prima del problema che stiamo affrontando tutti insieme. È necessario invece che ci sia un supporto per noi giovani aziende che siamo il futuro di questo paese. Del resto la situazione ci ha preso tutti alla sprovvista, quindi siamo rimasti totalmente spiazzati. Speriamo che da parte delle testate giornalistiche, da parte delle istituzioni che rappresentano la moda ci sia una risposta e un piano che ci possa aiutare. Lo shop online è fermo, abbiamo provato comunque a fare come stanno facendo un po' tutti, anche i grandi brand degli sconti, ma utilizzare una borsa in tutti i giorni forse è l'ultima idea che ti viene in mente. Però ci stiamo muovendo ma servono degli investimenti, quindi stiamo cercando del capitale, c'è l'unica fonte di salvezza in questo periodo, quindi dovremo fare entrare dei nuovi investitori. Stiamo affrontando il tema delle tecnologie, sia per la comunicazione che per la vendita. Manteniamo attivi i nostri follower facendo delle dirette e ci stiamo anche divertendo, devo dire la verità. Abbiamo avuto quest'idea che si chiama Tiffany Design Contest, dove c'è la possibilità di disegnare la nostra borsa iconica. Abbiamo avuto già parecchi iscritti, noi forniamo il bozzetto della nostra borsa e loro devono solo vestirla. Era premiata l'idea, l'originalità e l'idea, quindi proprio la creatività, non sarà giudicata assolutamente la tecnica. Quindi spazio proprio ai pensieri. Ci auguriamo di tornare tutti più forti di prima, quello sicuramente. E di poter fare una grande festa e riabbracciarci tutti presto.